ciao amici benvenuti ad un altro nuovo appuntamento oggi abbiamo questa maniglia che è corta non arriva per bene a quella che è la serratura quindi la serratura sforza leggermente in diagonale e quindi si può sciupare che cosa succede siccome la padrona di casa vuole per forza questo tipo di maniglia allora io gli allungo di un centimetro e mezzo la sua maniglia ok vedete semplicemente prendo e la saldo andiamo a saldarla la mettiamo bene bene in pari che sia dritta per bene per bene poi la appuntiamo così io prendo la molo con la molettina la molo la ripareggio vado a risistemagliela e ho già preso fa conto 7 800 euro 7 800 euro a nero ovviamente quindi voglio dire non è eccezionale e così si fa la giornatina capite come se avete delle domande mi raccomando scrivete qui sotto io aspetto tutti quanti ora la molo la ripulisco vado dalla signora e glielo metto dentro la maniglia è attenzione ragazzi arrivederci arrivederci